E' un matrimonio greco. Cosa è successo? A te com'è andata? Veramente non vorrei parlarne. Potrei finire sotto inchiesta. Spero che te la caverai col mutuo anche senza di me. Opla! Ma quanto vino hai bevuto? Soltanto un sorso. Però mi sembrava aceto così. Ho tirato fuori i nostri piatti e mi sono detta, è mia ragione. Ci meritiamo di meglio, noi non dovremmo vivere così. Che c'è che non va? Per una volta mi sento tanto indifesa. I... i... i barbari sono entrati e hanno saccheggiato il monastero. E hai deciso di rompere piatti e tazze. Non posso darti dettagli, tesoro. E' solo che ci sono persone a questo mondo che riescono a trasformare le cose che mi piacciono di più in cose ripugnanti e grottesche. Sono smarrita come una ragazzina e vorrei... dimentico di essere una persona per bene. Stai tranquilla, mamma. Ci siamo noi per ricordartelo. No, no, no. Basta così. Ne hai già rotti abbastanza. All that lonesome climb Ragged and sublime See how bright we shine Yeah. No, no. No, no. No, no. Grazie a tutti.